Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video! Oggi vi parleremo di qualche piccola curiosità sulla razza Chihuahua. Ma prima, sigla! Che sigla? Non c'è? No. Allora iniziamo subito! Partiamo subito col dire che il Chihuahua è la razza di cane più piccola al mondo. Possiamo suddividerlo in due tipologie, a pelo corto e a pelo lungo. Il Chihuahua ha origini messicane! A-E-I-O Il nome è dovuto alla capitale dell'omonimo stato, in cui sono nati i primi allevamenti. E il vero nome della razza è Chihuahua! Un po' strano. Una delle sue caratteristiche è la famosa testa a mela, ma ne esiste una variante detta testa... Ha un indole molto dolce e affettuosa, ma ha il bisogno, nonostante la sua statura, sa come farsi rispettare. Infatti è un cane molto coraggioso Avete presente la storia del calabrone che non potrebbe volare a causa della sua stazza Ma dato che lui non lo sa, vuole lo stesso? Con il Chihuahua vale un principio molto simile Il suo coraggio deriva dal fatto che... Beh, non sa di essere piccolo e si crede un colosso È un cane molto attivo, intelligente e ha sempre tanta voglia di giocare Beh, più o meno È soprannominato da molti come il cane e l'emosinatore Sono in pochi quelli che riescono a resistere ai loro occhioni dolci E quasi sempre riescono ad ottenere ciò che vogliono Chissà come fanno a essere così persuasivi Un'altra caratteristica è che stabilisce un rapporto molto intenso col proprio padrone Che spesso tende a viziarlo A volte un po' troppo Non amano assolutamente stare da soli E per questo motivo sarà in qualche modo come la vostra ombra Se ti è piaciuto questo video Non dimenticare di mettere un bel like E iscriverti al nostro canale YouTube Claude Andrew E se hai altre curiosità da condividere con noi Scrivile nei commenti Grazie a tutti